E salve ragazzi, io sono MaryShell e questo è un video annuncio per dirvi che questa settimana farò una piccola pausa organizzativa solo per questa settimana, la prossima settimana tornerò con più video di prima perché ho intenzione di fare una rubrica rumors, un angolo dei simmers e di preparare anche altri video, di altri videogiochi per conto mio, quindi ho bisogno di questa piccola pausa, diciamo di questa settimana appunto, quindi mi ripeto benissimo e niente, volevo fare questo mini 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 video solo per dirvelo, abbiate pazienza, mi spiace sempre lasciare il canale senza video anche suo per pochi giorni, però almeno ve lo sto annunciando, almeno ve lo sto dicendo mi trovate attivissima sempre su Instagram, farò delle live, quindi mi raccomando per chi non è iscritto a Instagram si iscriva e si iscriva al mio canale perché lì vi tengo aggiornati con foto, video, tante piccole cose e anche su Facebook vi tengo molto aggiornati, quindi mi raccomando iscrivetevi, trovate tutti i link in descrizione a questo video quindi, e iscrivetevi ovviamente anche al canale YouTube per chi sta vedendo questo video e approfittatene per recuperare video che magari non avete visto e ricordo magari ai nuovi iscritti che gli ultimi video di The Sims che ho pubblicato sono nuovi, nel senso che chi non ha visto la serie precedente può tranquillamente iniziare dagli ultimi 4 video quindi ragazzi, questo video finisce qui, era solo un video informativo vi voglio anche ringraziare per i commenti, per i like, per il sostegno, per tutto quanto perché io sono molto affezionata comunque a voi, a tutti quanti e quindi vi mando a tutti un abbraccio grande ci vediamo la prossima settimana con tantissimi video ciao! ah mi raccomando, commenti e like a manetta eh ciao!